Ciao a tutti teoretti e benvenuti in questo secondo gran premio qua con la carriera su Johan Zarco Oggi parte in prima posizione, prima pole position per lui e veramente tanta roba Ha fatto veramente un miglior tempo, cioè un miglior giro e proprio cosa da paura E comunque direi di lasciar perdere queste belle inquadrature e partire con la gara Secondo Mark Marquez, seguito da Siorg Lorenzo, sono ancora abituato con l'anno scorso Seguito da Maverick Vinales, che strano, non si prende la pole position Dai, andiamo a fare una buona partenza, succedono i semafori, gas a martello e andiamo Il nostro guido Meda c'è sempre Bisogna imparare a provare a far bene i primi giri per mantenere un bel passo, ma qua si va già larghi quindi Se riesco vi metto il giro di qualifica in cui abbiamo fatto il miglior tempo Comunque adesso con loro bisogna stare un po' all'occhio Qua usciano bene con la Yamaha del Tektroa dello scorso anno E come vedete ne hanno di più loro Ne hanno molto di più Però non ci infiliamo all'interno Andiamo larghi, però vediamo se riusciamo a incrociare No, c'è Rossi dietro che ci chiude leggermente la porta Comunque abbiamo una moto che ha minore aderenza, diciamo Rispetto a quelle ufficiali Qua si va lunghi, si va sulla sabbia No, ok Non siamo caduti, buono E ora da risalire, cavolo Andiamo all'esterno E Zarco ce la fa, Zarco E' un uomo di poche parole, ma di tanti fatti Guardate come ha già recuperato tante posizioni Se è in giagito a Bautista Alvaro Bautista Qua va lungo, va lungo, però No, è andata male Ha perso tutte le belle posizioni qua E' ben dietro Abrams Adra Adams No, come cavoli si chiama Abram Boh Siamo dietro all'Oves Il nostro avversario dello scorso anno Che con l'Aprilion non è che ha fatto tantissimi Non è che ha fatto delle buone posizioni Uh Subito interno Sono sette giri qua Tra l'altro non ve l'ho più detto Puro qua Con l'A250 In Moto3 Si fa bella veloce Ma qui Bisogna stare attenti Se no si va subito fuori pista E guardate qui l'Aprilia D E Spargaro Eh, per forza E siamo dietro a Volgar Compagni di squadra che lo sorpassiamo qua Buono, buono Adesso dobbiamo stare attenti a staccar bene Dietro a Barbera Gli hanno Uh, anche Rins Ecco l'altro nostro avversario dello scorso anno Interno su Craciulo Duiziose qua Lorenzo strano ma viaggia Viaggia parecchio Andiamo ancora come prima No Siamo andati male Dal Moto che Sbacchetta Leggermente Uh Vi ha rischiato Guardate un po' se va Pedrosa Qui Questi qua davanti Escludendo Maverick Sono i mitici Fantastici 4 Di un po' di anni fa E poi c'è anche Craciulo Craciulo veramente sta facendo una grandissima stagione E dietro c'è Iannone E Rins Vediamo un po' Uh Larghi 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 Però Usciamo meglio Siamo secondi A meno che è caduto qualcosa E ma Eh sì Maverick Sto dicendo neanche Marquez E Pedrosa Lì Davanti A comandare su tutti E con la sua bella onda Vediamo un po' se riusciamo A prendergli qualcosa Qui no Ci siamo Distratti Guardare gli altri E in rettilineo non ne abbiamo Siamo forti sulle curve Ci infiliamo Buona lì cavoli E Maverick Maverick che cavoli ha fatto Sportellate E bello aggressivo Ha visto Pedrosa che gli è davanti E Deve andare a prenderlo Oppure ha visto Una Ducati Una scusate Yamaha Che non era Ufficiale davanti alla sua E si è incavolato Questo non si sa Però Sta di fatto che È partito via Aggressivo Qui vediamo Punto a favore Zarko Non riesce a prenderlo Però vediamo Incrocio di traiettoria Eh Zarko Ce l'ha Ce l'ha buona Però no Maverick ce l'aveva buona Qui va lungo Zarko Va sul Esce dalla pista Va sugli sponsor Che Gli metteranno anche una multa Di 50.000 euro Per avergli calpestato La scritta No vabbè Eh perde un po' di posizioni Cavoli Va lungo anche qua No però Questa qua ci sta Come lunga Ci sta Intanto Ah no Non è Petrucce Redding che è risalito Andiamo con l'interno Sì Buono Un po' aggressivo Un pochettino Loro ce lo riprendono Eh vabbè Abbiamo tagliato la curva Ok Redding Nella top 5 Redding Cioè cos'è sta roba Pedrosa non è tornato indietro Io vorrei Craculo davanti Staccato troppo In anticipo Ah Rischiata Rischiata Cavoli Craculo Craculo Che cavoli Abbiamo quasi fatto Un Uh Passa in mezzo Passa in mezzo E qua si riesce a tenerla E qua si riesce a tenerla La La leadership Della gara Sbaccata un po' la moto Non riesce a chiudere bene No Sull'erba Sull'erba Vai Vinales Ok Eh dobbiamo lasciarli passare Perché era un Ingiuria su di lui Però 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 La nostra motoretta Se va Uh Nostro motoretta Questo qui è Zarco Non è mica Toretto C'è Zarco Tanta roba Taglia un po' le curve Eh Però Almeno Lotta per la vittoria E guardatelo Se arriva su Vinales Ecco Ci siamo girati Nel momento Non tanto Opportuno No qua Bisogna tenere bene La corda Sul Sul cordola Altrimenti Intanto è venuto Su anche Giannone Esterno Esterno Si Eh no 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 Uh abbiamo rischiato Mamma mia Zarco Che Che ansia Che ci fa venire Io non oso immaginare Quando vedremo Zarco Alle mani Veramente Non lo oso immaginare Che cavoli Andrà a fare Quella gara Perché gioca in casa Quindi Adesso Non vorrei dire Una cavolata Ma Può darsi che la prossima gara No non Non so Non ricordo Non è più aggiornato Sul calendario Delle Delle gare Guardatelo Rossi Uh che si gira E noi lo freghiamo Dall'altra Anche lui Non vuole farci passare Eh però Che staccata Che gli abbiamo tirato Mamma mia Ormai Siamo dei pro Con Questa moto Come sentite un po' Dal suono Non è che la lascio andare Bella decisa Gli do il colpettino Di gas Buono Chiudi 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 Questa qui Non l'ho mai imparata A far bene Oh Bella questa Così che si deve fare Sta curva Uscire è meglio Eh infatti No 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 Che le andiamo addosso Questa qui Devo chiuderla meglio Perché come vedete Andiamo Quasi nell'uscita Cavoli Mancano ancora due C'è solo due giri Eh però No 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 Che cavoli ci fa C'è Che cavoli fai Eh Pedrosa Se era Marquez Lì partivano gli insulti Sarà un bravo pilota E tutto Però C'è Un po' di antipatia ci sta Su Marquez Mentre Pedrosa no E uno tranquillo Ci può stare Eh Però C'è anche il cordolo Quindi se c'è anche il cordolo Che ci fa dannare Rifacciamo No basta Basta Rewind Io poi Non noto molte differenze Tra le due Yamaha Tra la Quella del 2016 Quella del 2017 Qui in staccata Però Chi stacca più forte Uh Zarko che si infila La tiene La tiene La tiene Però Eh no Rossi no Rossi dice Tu non vai da nessuna parte Tu sei un novellino Dove vuoi andare Però C'è Gli passiamo ancora davanti Per essere un Un Novellino Diciamo che In questa categoria Ci stiamo cavando Benissimo Cambio di traiettorie Oh Tutti in piedi sul divano Qua Proprio una cosa del genere Questa qui è anche Una bella curvetta Tosta Non so mai Se fare in secondo In terza Allora Vado in terza Dandogli i colpetti Di gas Maverick È dietro Spagnoli Non mi piace Parecchio Come cavoli fa Maverick Accorciare così tanto Vabbè Solo lui lo sa Siamo arrivati lunghi Però è l'ultimo giro Scorsa gara Se non mi sbaglio Siamo arrivati Terzi Penalizzati dal rettilineo Qua dobbiamo arrivare Primi Senza aver penalizzazioni No Che cavoli Eh vabbè 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 Una cosa dopo l'altra E si va a cadere Cioè Non ho usato rewind Fino al quinto giro E dal sesto Li utilizzo Vabbè Riprendiamo da Questa bella staccatona Tagliata sul cordolo E ci mettiamo davanti A Vignales Ditemi se vi piace Questo stile di gioco Un pochettino aggressivo Perché non riesco A controllarmi Sinceramente Non riesco proprio Eccoli Eccoli Sul rettilineo Come vanno Però noi stacchiamo forte No Sì Più o meno L'abbia staccato forte Dai Gli stacchiamo Sì Più o meno Se vi interessa Se vi piace Come stile di gioco Ecco Poi dopo Mi saprò regolare io Un po' In base alle mie Caratteristiche E qua No Eh ma Dai Cioè Ho usato 4 rewind Solo Nell'ultimi Due giri Prima non ho usato Nulla E vabbè Si fa sentire Il consumo Come Ma il bello Che non c'è Ok Ora se cado Ne frega niente Cado Se cado Cado Zero rewind E si va via E no Markers Tu dove vuoi andare La chiudiamo La chiudiamo Si Il nostro Zarco Va a vincere Il suo Primo Gran premio Eh si Vabbè Beh volendo Qua Se vuoi Se ti fai Dal male Puoi arrivare Primo Se siete All'ultima curva Che siete Appena dietro Spalancate il gas Vi schiantate Però arrivate Primi Vabbè Non penso che sia la cosa migliore Comunque No Miglior tempo L'ha fatto Vinales Noi anche in prova Non siamo scesi sotto l'1.38 Loro invece in gara Sono scesi sotto l'1.38 Tanta roba Per Vinales E Markers E quindi noi Andiamo a qualificar Cioè A posizionarci In prima posizione Prima vittoria Per nostro Zarco Johan Zarco Tanta roba Tanta roba Ok Ora andiamo Alla classifica generale E guardatelo lì Nostro Johan Zarco A meno 12 punti Dalla vetta Ah no scusate Meno 4 punti Dalla vetta Che sarebbe Maverick Vinales Quindi come vedete Siamo lì vicini Non ci scappa Moto Classifica moto Ovviamente Yamaha E nulla Io ragazzi Spero tantissimo Che questo video vi sia piaciuto Vi invito come sempre A lasciare un bel like Commentare Condividere il video E iscrivervi al canale Se non ho ancora fatto Qui sotto in descrizione Troverete Vabbè Se caso vi rimetto Il link Dalla mod Se vi interessa Fatemelo sapere nei commenti E poi ve lo scriverò E tra l'altro Troverete tutti i miei social In descrizione Ovviamente Io ragazzi Vi saluto E vi ringrazio Datemi qualche consiglio Se ci tenete alla serie Volete Farmela migliorare E nulla Noi ci vediamo domani Ma può darsi che oggi Esca un altro video O è già uscito O uscirà Comunque Noi ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao a tutti E al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti